Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GT5 perché come avete letto dal titolo vi mostro la Toyota Supra e qualche altro veicolo inedito che non è stato ancora rilasciato ufficialmente su GT5 e quindi lo si può avere solo sul PC quindi ragazzi spero che questo video vi piaccia, spero che vi interessi quindi lasciate un bellissimo like, arriviamo a 1000 like se non siete ancora iscritti iscrivetevi così da non perdervi i prossimi contenuti e inoltre ricordatevi di commentare con l'hashtag allora ragazzi oggi vi mostrerò diverse auto, ovviamente non ve le mostro tutte vi anticipo, io mostro innanzitutto la Toyota Supra e cercherò di mostrarvi sicuramente un'altra auto e se riesco anche un'altra ancora quindi 3 auto in totale in questo video ragazzi commentate facendomi sapere quale auto di questo video vi è piaciuta di più e soprattutto fatemi sapere quale tra le auto che non sono state rilasciate ufficialmente vorreste vedere nel prossimo video ecco qua sono allo Santos Custom, ora faccio spawnare la Toyota Supra ed ecco qua la Toyota Supra ragazzi allora innanzitutto prima di entrare dentro lo Santos Custom direi di analizzarla tutti quanti insieme e raga se quest'auto vi piace perché appunto anche voi avete un bellissimo ricordo di Paul Walker lasciate un bellissimo like a questo video perché la Toyota Supra come dovreste sapere è stata una delle sue auto che ha guidato maggiormente si vede soprattutto dai fanali posteriori ragazzi che è tanta roba quest'auto, tanta roba allora ora che cacchio ho combinato ecco i fanali anteriori classici raga quanto sono belli entriamo un attimino e vediamo anche gli interni gli interni non sono neanche poi così tanto diciamo nuovi ecco sono gli stessi di sempre più o meno beh entriamo subito dentro lo Santos Custom e non ci perdiamo in chiacchiere vi faccio vedere la macchina come va veloce dopo le modifiche è inutile farvela vedere ora come ora ok sbizzariamoci un po' sui paraurti griglia tagliata uh quanto è figo questo proprio la cattiveria assurda copri fari questo mi sembra un po' da rally a dire la verità in carbonio aspetta aspetta che cosa cambia in carbonio? ah lo splitter in carbonio nulla di che fari e splitter in carbonio naturalmente sembra molto tuning dai ci sta griglia tagliata e splitter e questa cosa qua da strada ecco proprio da strada cioè ci sta su una toyota sopra ci sta da strada come potete vedere lì ci sta la turbina che gira raga ma che figata è paraurti posteriore diffusore personalizzato penso che con personalizzato intende il colore diffusore in carbonio posteriore in carbonio e posteriore in carbonio con diffusore in carbonio no vabbè tutto sto carbonio mi sta un po' sul cacchio perché tutto sto nero è brutto dai raga io direi di mettere diffusore personalizzato ci sta ok motori chiaramente al massimo ragazzi marmitte doppia in titanio mamma mia quanta roba oddio doppia in titanio è fighissima è marmitta doppia cromata allora io direi di mettere questa qua queste marmitte fanno più la macchina da strada appunto cofani oh ne vedo tantissimi allora colore 2 insomma il colore che scegliamo personalizzato areato ok con doppia presa d'aria e prestazioni e poi a quanto pare sono le stesse ah le stesse però in carbonio ok in carbonio non mi piace più di tanto perché voglio un colore unico sull'auto ovvero l'arancione che dopo vado a modificare e direi di mettere questa qua compresa d'aria per iniziature colore principale direi di mettere bellissimo metallizzato ma arancione questo rosso lava ci sta magari mettendo un altro arancione perché comunque vedete c'è quel arancione barra rosso però l'auto di pull walker la toyota supra classica questo qua dai questo qua è quello più che si avvicina di più anche se non è proprio per un caro wow allora qui arancione ci sta un arancione un po' più chiaro questo qua ci sta dai tettuccio con presa d'aria presa d'aria di colore 2 ovvero nera e in carbonio allora questa qui ci sarebbe in carbonio però direi di farlo a colore 2 che sarebbe comunque il nero però con la perlescenza arancione minigonne peccato io volevo sbizzarrirmi sulle minigonne purtroppo ce ne sta solamente una vabbè spoiler uh quanti spoiler allora bootlip uno piccolino piccolino dopodichè il tuning ci sta anche questo ci sta tantissimo per avere una linea molto pulita dell'auto spoiler medio anche questa ci sta solo che mi piace di più questo in realtà tipo 1 in carbonio 2 in carbonio sempre mano a mano più grande naturalmente guarda madonna santissima che cacchio è si chiama pure alla larga alla larga state tutti quanti alla larga gt è la madonna e gt grande mamma mia che cacchio è un mostro diventa noi ragazzi direi di mantenermi un pochettino basso e di tenere questa qua che fa molto più toyota sopra fast and furious non ci sono le livree peccato mi sarei aspettato una bellissima livrea per quest'auto beh allora andiamo a provare purtroppo ragazzi non vi posso far sentire il sound di quest'auto ovvero il motore per il semplice fatto che si è buggato ma guardate che figata assurda è ragazzi guardate i fari posteriori non me ne sono accorto prima quando li sono andati a modificare ma sono diventati neri neri nerissimi proprio da tuning mamma mia che roba bella mamma mia la supra la toyota supra io la userò sempre guardate che cacchio c'ha una potenza incredibile comunque c'ha una potenza abbastanza dignitosa è una potenza rispettabile di tutto rispetto e certo vabbè il drift non è chissà che cosa su GTA 5 anche perché che cacchio è su due ruote direi di portarlo un attimino su allungo quindi andiamo un attimino su in autostrada e vediamo un attimino come si comporta in autostrada gli interni oddio mio vola quest'auto raga vola la ci buttiamo da qui così tagliamo la strada ole eccoci qua perfetto la tiriamo un attimino quest'auto vediamo un po' a quanto va purtroppo non c'ho il contachilometri digitale installato con le mod per il semplice fatto che dopo gli aggiornamenti si incoglionisce il gioco quindi non accetta più nessuna mod 130 mili orari buono non vorrei che sia la macchina più veloce del gioco quasi quasi vabbè direi di andare a lo Santos Custom per farvi vedere le altre auto spero che questa Toyota Supra vi piaccia la turbina che vola la turbina che parte madonna santa guardate che figata spero che la comprate anche voi questa Toyota Supra anzi soprattutto fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuta fate spawnare un'altra auto che è molto attesa personalmente a meno da parte mia e che reputo molto figa e penso da quanto ho capito dall'ultimo video che piace anche a voi e sto parlando dell'auto diciamo di Ken Block una specie di Ford cioè pazzesca è davvero cattivissima e sembra da rally e quindi si ci sta appunto proprio come quella di Ken Block non so se lo conoscete Drift è famoso e quant'altro vabbè come potete vedere è davvero cattivissima guardate il di dietro raga il di dietro è qualcosa di spettacolare cioè mi piace tantissimo guardate quanto è figa l'interno guardate quanto fottutamente è bella mi piace tantissimo dopo la Toyota Supra prenderò quest'auto infatti vi sto facendo vedere le auto che mi piacciono di più a me penso che ovviamente piaceranno anche a voi vabbè in ogni caso entriamo dentro lo Santos Custom subito e devo dirvi che l'ho provata quest'auto e vi anticipo subito che è una piccola bestia corre come una dannata è davvero molto molto agile ok andiamo subito sulle marmitte doppie ok doppie centrali big bo bo what the fa madonna mia sembra oddio fighissima fighissima la marmitta al centro laterali cromate wow figa laterali in carbonio no laterali non mi piacciono più di tanto devi di mettere il big bo perché è davvero qualcosa di fenomenale paraurti anteriore oh split 1 pro colore e in carbonio splitter 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 ok direi di mettere in carbonio lo splitter questa volta cofani in carbonio nah sportivo classico che praticamente va a togliere la presa d'aria e sportivo classico in carbonio da corsa e da corsa io direi di mettere da corsa normale livrea oh eccoci mettiamo un attimino le livrea e vediamole un attimino allora strisce classiche wow figo bandiere da gara belle sono davvero carine sono indeciso tra le prime tra quella che vi ho mostrato prima è questa in realtà e bandiere da ah ok abbiamo trovato il compromesso ragazzi ok ecco qua abbiamo trovato sia la prima livrea con la seconda insieme poi questa qua insomma varie pubblicità che a me personalmente non piacciono questa qui invece particolarmente è più carina di tutte le altre secondo me ragazzi mi avete detto che ci doveva essere una livrea per quest'auto che assomigliava appunto alla livrea di Ken Block forse dovrebbe essere questa però non ne sono sicuro comunque io vado a mettere questa qua che dite poi sul bianco ci sta tantissimo questo nero e bianco quindi direi di lasciare anche come colore principale il bianco tettucci che cacchio la bandiera americana stona troppissimo prese d'aria in carbonio e prese d'aria di colore 2 cambiano proprio di niente quindi vabbè direi di mettere prese d'aria di colore o in carbonio vabbè mettiamole in bianche dai sti cari ah eccoti le minigonne sottile sottile sempre sottile sempre sempre di carbonio oppure vari colori da gara e da gara e da gara in carbonio beh direi di mettere sulle minigonne in carbonio perché ci sta tanto spoiler oh la madonna qua ci sta un bel po' di spoiler però anche se lo spoiler originale è davvero qualcosa di fighissimo va bene allettone con livrea no sempre sta pubblicità del cazzo allettone standard in carbonio figo anche questo che è leggermente più piccolo di quello l'altro sempre con livrea e in carbonio da pista e poi sempre da pista bello questo qua perché fa davvero molto cattivo però io direi di mettere questo qua per renderla un pochettino più piccolina l'auto insomma direi di andarla a provare subito quest'auto ragazzi perché è qualcosa di fenomenale e ve la farò vedere guardate come parte come vuole a razzo quest'auto ok guarda sta già 100 120 130 migliorari ok stavo andando a schiantarmi è molto agile abbastanza direi eh quanto è figa da dietro ragazzi è sempre un piacere vedere quest'auto c'ha dei fanali posteriori fighissimi paraurti fighissimi che non hanno avuto appunto bisogno di modifiche perché appunto sono fighissimi già di suo ok guardate siamo a 120 migliorari che è una velocità abbastanza dignitosa per quest'auto che è una sportiva normale e poi si raggiunge anche i 130 che comunque vabbè ricordiamo che la velocità massima se non erro è sui 140 ragazzi l'hashtag di oggi è hashtag supra perché per il semplice fatto l'auto più bella che abbiamo visto per il mio senza nulla togliere all'auto di Ken Block è la Toyota Supra l'auto con una bellissima storia l'auto che è potente fatemi sapere se anche voi la pensate come me e commentate appunto con l'hashtag supra pure con l'hashtag del veicolo che vi è piaciuto tra queste tre che vi ho mostrato e fatemi sapere che cosa ne pensate di queste tre auto inoltre ditemi quale auto portare nei prossimi video detto questo continuiamo con il video ok ragazzi vi è sponato una macchina che è strana è strana perché ragazzi io ho delle aspettative molto grandi su quest'auto perché è sul sito di Soutan San Andreas quindi il sito secondario dove si comprano le auto e costa un milione e passa dollari quindi io penso che sia un'auto molto buona sotto quel punto di vista se costa così tanto però appunto andiamo a vederlo un attimino è praticamente la Michelli o Micelli come cacchio si chiama non lo so è davvero molto figa come auto è una penso una sportiva classica sicuramente andiamo a vedere se effettivamente sarà molto veloce o almeno molto modificabile a livello di estetica perché da un'auto del genere mi aspetto questo rimozione paraurta interiore e iniziamo bene perché è un aspetto davvero molto carino gancio non paraurti me fega cazzo del gancio splitter non paraurti splitter largo uh fari da rally molto bene fari da rally oddio mi sto confonde e boh raga raga che auto è cioè oddio mio oddio mio questo qua lo metto assolutamente perché mi sembra un'auto da sfondamento posteriore rimozione paraurti e gancio vabbè mettiamoci anche il gancio telai telai il gabio di sicurezza e quant'altro aspettate sedile volgenti vediamo che cosa cambia tra sedile volgenti penso la sedia da gaming come appunto la sedia da gaming esattamente motori tutto al massimo maramite a doppia uscita uh carina ah no diritta scusate perché poi è la stessa cosa bella in titanio che va verso destra tuner in titanio big bore con uscita laterale dov'è dov'è ah io direi di mettere oh big bore parafanghi oh carina carina aspettate che cosa cambia kit arcata ampia oh mi piace di più questa qua kit arcata ampia c'è sta griglie griglie a rete a rete nastro rosso sui fari e poi di vari colori eh senza nastro raga senza nastro molto più figa carbonio qui forse ci sta il carbonio sapete quindi si ce lo metto le livree ragazzi qui striscia tricolore e sapete che cosa mi sembra sembra un alfa romeo quest'auto e ora che ci sta la striscia tricolore quindi penso che appunto è fatta per perché proviene dall'italia quest'auto o almeno limitazione penso che appunto sia la conferma quindi fatemi sapere secondo voi quest'auto che cosa è comunque striscia tricolore ci sta ed è anche molto patriottica per la nostra nazione da gara semplice carino carino ci sta e poi varie varie livree che mi stanno davvero sul cacchio quindi io metto questa qua ragazzi ok tettucci tettucci striscia parasole dove sta qua eccola qua fari mamma mia che cosa è questa cosa porta pacchi madonna quanto è brutta ruota di scorta niente mi metto questo perché mi sono innamorato spoiler spoiler lip quello piccolino drugster ducktail e spoiler basso si ducktail un attimino tiriamo le somme per quest'auto sinceramente mi aspettavo molte più modifiche per il prezzo che costa però ora un attimino usciamo e vediamo se questi un milione e duecentomila dollari non sono investiti per l'estetica ma magari per l'accelerazione insomma per le prestazioni vediamo un attimino gli interni che non li ho visti per niente molto carini gli interni in realtà molto belli c'è questo tachimetro insomma con tachilometri che almeno si vede il numero vediamo un attimino la velocità anzi facciamo qualche sgommata qua come la tiene come la tiene mamma mia c'è una piccola potenza è piccola ma è abbastanza potente e poi si intrufola da tutte le parti come avete visto ho fatto qualcosa di incredibile mi è riuscita ok qua mi sono andato a distruggere l'auto sicuramente non va abbastanza veloce dato che è una sportiva classica come vi ho detto all'inizio però sicuramente è molto più lenta della toyota sopra quindi io non capisco e non giustifico il prezzo non giustifico il prezzo di quest'auto a dire la verità ci sono tantissime altre auto che se volete ve le mostro quindi fatemelo sapere con un bellissimo like a questo video con un bellissimo commento facendemelo sapere e commentate con l'hashtag che avevo lasciato pochissimo tempo fa iscrivetevi se siete ancora iscritti e noi ci possiamo benissimo vedere al prossimo video